Ha mantenuto la sua promessa Antonella Clerici, che a inizio mese aveva anticipata che sarebbe venuta in città per pregare il beato Carlo Acutis per ringraziarlo di averla aiutata nella malattia. La conduttrice è arrivata in città giovedì, come documentato dai suoi social. Si è recata in visita a San Francesco e poi nella chiesa di Santa Maria Maggiore, dove è esposto il corpo del beato. Prima di continuare ti invito a iscriverti al canale e lasciare un like. Grazie. Clerici ha visitato il santuario della spogliazione. Oltre alla preghiera sulla tomba del giovane beato Millennial nella chiesa di Santa Maria Maggiore, si è soffermata nella sala della spogliazione ed ha potuto avvicinarsi anche alla porta di Francesco, dove il futuro santo passò prima di spogliarsi di tutti i suoi beni. Ha inoltre parlato con il vescovo della diocesi Assisi Nocera Gualdo e della diocesi di Foligno, Monsignor Domenico Sorrentino, che le ha raccontato di come questi luoghi siano fortemente legati alle figure di San Francesco d'Assisi, che qui ha composto anche gli ultimi versi del Cantico delle Creature e di Carlo Acutis, promettendo di inviarle una copia del suo libro. In mattinata, accompagnata dal custode fra Marco Moroni, aveva visitato la Basilica di San Francesco e il Sacro Convento e ai francescani Antonella Clerici, ha affidato un breve video. Essere ad Assisi è un privilegio. Le sue parole. Me ne parlava sempre il mio amico Carlo Conti, che qui conduce la serata benefica con il cuore. Volevo essere qui anche perché sono devota a Carlo Acutis. Non sono stata bene. Ho pregato per lui e mi ha dato conforto e avevo fatto una promessa. Ora sono venuta e ho trovato una grande bellezza e spiritualità. Gli abitanti di Assisi tengono a San Francesco e alla loro terra è questo, è un viaggio da fare. Della sua malattia, un tumore, Clerici aveva parlato a oggi. Pochi giorni prima di aver saputo di avere un problema di salute, il beato Carlo Acutis mi compariva ogni volta che aprivo il telefono per navigare, di continuo. Prima dell'intervento ho pregato lui perché sono religiosa, anche se non frequento la chiesa. Non grido al miracolo, ma sono sicura che ci sono persone di fede, o di cuore, o con poteri speciali. Non saprei come definirle, che nei momenti di crisi sanno starti accanto. A fine mese andrò due giorni ad Assisi a portare la mia preghiera a Carlo, per ringraziarlo di persona. E ora, appunto, promessa mantenuta. E tu cosa ne pensi della notizia? Lascia un like e un commento. Grazie.